C'è qualcosa che non va per essere seduti qui, per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili, che ti sembra vero solo se doveva andare poi così, che vuoi dare tutto, vuoi dare tutto, e resti lì. Ed io ci credevo, ed io ci credevo sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, perché ci credevi, perché ci credevi sì, ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi per te? Cosa ti aspetti in fondo a te? C'è qualcosa che non va e tutto poi finisce qui, puoi fare almeno, di fare almeno le cose facili. Se è vero poi più vero è, se va bene, va bene così, è fragile, fragile, resti lì. E io ci credevo, io ci credevo sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, e tu ci credevi, tu ci credevi sì. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Che cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa nascondi dentro di te? Che cosa vuoi da me? 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 Cosa nascondi negli occhi di te Che cosa vuoi da me